allora buongiorno benvenuti a tutti adesso io presento il cast al completo di ok boomer per la regia di gianfranco pannone e andrea groplero meno male che ho incontrato andrea poco prima perché sennò avrei sbagliato tragicamente l'accento sulla o e volevo presentarvi intanto il produttore luigi tortato che non ancora non è arrivato il direttore della fotografia valerio burli buongiorno poi abbiamo i registi gianfranco pannone con sua figlia costanza pannone e poi andrea groplero con sua figlia adele in prima fila abbiamo angelo altea a cui devo dei soldi di un caffè 21 euro e ma e maurizio acerba acerbo che sono attori nonché testimoni del film documentario di cui parleremo tra pochi istanti allora mi piacerebbe che si iniziasse già dalla sala però se avete bisogno che qualcuno rompa il ghiaccio io darei la parola al regista chiedendo ai registi poi decidete voi chi inizia di darci un po un'idea di questo di questo ricordi nella pandemia che potrebbe essere il sottotitolo di ok boomer che è mai molto 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 di più gianfranco inizi tu o andrea allora guarda c'è un tastino al centro del microfono al prendere ecco vai diciamo che il film comincia nel primo lockdown dove gianfranco ritrova una cassetta video 8 che avevamo girato a berlino da giovani studenti del centro sperimentale di cinematografia mentre cadeva il muro e lì in quei giorni in cui insomma l'ipotesi dell'apocalisse era possibile cominciamo a fare un ragionamento a distanza perché all'inizio il film doveva nascere tutto a distanza dove essere anche montato a distanza con con fulvio molena il montatore che che era a milano e poi in verità insomma le cose sono andate diversamente abbiamo sono fin girato in presenza non 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 a distanza e beh insomma lì cominciamo a pensare però che la pandemia è l'effetto terminale di un processo che comincia con la caduta del muro di berlino che comincia cioè col momento apicale del neoliberismo e pensiamo che quello sia veramente un momento il latrato della bestia il latrato del capitalismo morrente e su quello iniziamo a interrogarci a interrogarci e a interrogare anche le nostre le nostre figlie con varie incursioni cioè io ringrazio ancora Maurizio Cerbo che è il segretario di rifondazione in cui ho fatto un'incursione alla segreteria nazionale facendo veramente facendoli anche un po' imbarazzare credo e si sono ancora traumatizzati e beh insomma e lì cerchiamo un rapporto anche con un certo senso di colpa con con le nostre figlie con dei giovani perché hanno subito un furto di futuro da parte della nostra generazione in parte sicuramente dei brutalisti un furto di futuro incredibile grazie Gianfranco vuoi integrare naturalmente non sono d'accordo su nulla di quello chiaramente della gloppero quindi ricominciamo da capo no a parte tanto scusami Gianfranco volevo aggiungere che si è aggiunto a noi il produttore luigi tortato la vittima stava pagando i caffè che ho lasciato io in sospeso ciao luigi allora no no ma insomma ha detto a parte andrea io tra l'altro oggi sono anche un po imbarazzato dal comparire dentro mi è capitato già in altri lavori di comparire però è sempre un po strano mostrarsi quindi sono anche curioso ma lo stesso mi vergogno pure un po però come dire ci è sembrato anche da punti di vista anche diversi insomma che poi vedrete nel fin sicuramente gli ardori ideologici di andrea sono molto più forti dei miei forse magari non dico non mi considero un disincantato forse diversi forse un po anche diversi però diciamo in qualche modo forse guardo con un po più di distacco anche se quei sensi di colpa e di quelle responsabilità le sentiamo entrambi in modo in modo abbastanza abbastanza forte ma questo è un piccolo film che si è formato un po per volta e si è formato perché l'abbiamo avuto fortemente io andrea abbiamo fatto due passi falsi con dei produttori ma per fortuna abbiamo incontrato sulla nostra strada luigi tortato è un amico storico di andrea che è diventato anche amico mio e luigi è stato fondamentale perché a un certo punto un regista può dire quello che vuole ma si sente molto molto solo se non c'è a fianco qualcuno che in quanto ma non è solo una questione di cacciare i sordi insomma le dire che pure è importante ed è un film fatto a basso costo lo diciamo anche orgogliosamente non solo un po operista però questo è un film volutamente fatto anche a basso costo e però insomma è stato importante quello che l'entrata nel film di luigi ed è stato poi importante anche anche quasi inaspettata sebbene abbiamo dei rapporti di lavoro di professionali da tempo di cine città luce nella persona in particolare rigo bufalini con andrea di consoli che un po un consigliere dentro l'intellettuale diciamo legato diciamo si sono appassionati a questo piccolo film e quindi ci hanno permesso di poterlo chiudere quindi è stato è stato anche abbastanza come dire ma non dico faticoso però è stata una gestazione lunga cominciata durante il lockdown è finita pochi mesi fa e quindi mi sento anche abbastanza orgoglioso ecco nel senso l'orgoglio è del dire insomma che si può fare anche un piccolo film quando si sente la necessità di farlo nel senso che io credo che bisogna cercare con il nostro lavoro ci viviamo pure quindi qualche modo un film documentario non è vero che si fa con due soldi e basta questo è un falso mito ci vogliono dei budget che permettono anche le persone che ci lavorano non solo a regista di campare però ci sono dei momenti in cui tu senti l'urgenza di fare qualcosa altro e in questo caso quella mia di andrea era un'urgenza tra l'altro condivisa con con valerio valerio con cui lavoriamo insieme da da anni insomma lui è stato mio ex allievo abbiamo lavorato insieme facciamo altri lavori insomma mi ha fatto d'aiuto ma non solo anzi molto di più è anche un consigliere terribile insomma ci ci ha ammazzolato ben bene mica solo le nostre figlie anche lui ci ha ammazzolato ben bene da da trentenne e facendoci diventare molto più boomer di quanto già era avanto già lo sia insomma per farla breve secondo me nel percorso di di un regista ma insomma di un film maker ogni tanto è bello fare anche queste esperienze e uscire fuori un po dal ruolo anche mettersi un po in gioco non pensando solo da professionista cioè mi piace sempre pensare a quello che diceva del cinema rossellini quando parlava appunto del fatto dice io sì sono anche un professionista ma mi piace essere anche un dilettante qualche volta ecco questa cosa mi piace molto ci annuncia la colonna sonora di un sacco bello e tra l'altro poi c'era una cosa sola prego sono veramente molto contento che questo film sia in questa sezione del festival perché è veramente una una novità assoluta cioè una sezione che in fondo parla di cinema politico è una cosa che non c'è nessun altro festival vorrei dire al mondo e quindi io di questo ringrazio moltissimo stefano della casa perché questa è un'esigenza vera e si vede insomma anche la quantità e la qualità dei film che sono in questa sezione anche giulio casadei che un po non si è occupato di questa sezione questa sezione tra l'altro si parlava di esperienze nuove e voi iniziate con questo super 8 che probabilmente video 8 video 8 sarà stato anche rielaborato perché sarà stato in condizioni terribili presumo adesso lo vediamo così adesso voi e si parlava di esperienze nuove due esperienze nuove la la visita in una berlino completamente anno zero a ground zero e una situazione pandemica che per grazie a dio però poi purtroppo per la nostra umanità è stata un'esperienza completamente nuova e diversa direttore della fotografia sono state poi se qualcuno ha delle domande basta che alza la mano perfetto adesso sentiamo lui e poi passiamo la parola ma la difficoltà maggiore di questo film è stato riuscire a riprendere andrea e gianfranco in un momento di silenzio perché insomma sono come dire particolarmente sì esatto loquaci però sempre ecco io ho iniziato il film che ero molto in conflitto con la loro generazione e ne sono uscito che invece la parola conflitto è diventato confronto e questo secondo me è anche un po il senso profondo del film perché adesso senza entrare nello specifico però è ovvio che è anche abbastanza facile fare un colpa no poi però se finisce lì che è servito anzi forse diventa anche più ipocrita invece secondo me all'interno di questo film voi siete stati bravi a lasciarmi che vi riprendessi anche momenti molto fragili ci sono stati momenti in cui stavo riprendendo voi forse neanche venite accorti e sono finiti nel film quindi è stato anche un processo che è andato avanti al montaggio e non mi piace usare il termine auto finzione perché io che vi conosco soprattutto a gianfranco da un po di tempo se me non avete finto soprattutto nel confronto con le vostre splendide figlie e io sono stato molto fortunato a poter assistere a questi momenti perché insomma non capita spesso e un termine che vorrei usare per il lavoro che ho fatto piccola premessa io non sono un direttore fotografia o meglio insomma non è il mio ruolo principale nella vita però forse è stato utile anche questo è il motivo per cui mi avete scelto insomma che comunque potete avere un occhio esterno anche critico e quindi era fondamentale questo il mio lavoro io lo definisco una fotografia casareccia non casalinga ma casareccia nel senso proprio che quando tu vai in un'osteria casareccia ti aspetti di stare a casa di essere trattato bene una buona salsiccia della tuscia esatto una cosa fatta semplice ma bene buona e questo senso per me è profondo anche nell'opera di un qualcosa che non è casalingo ma è casareccia nel senso di caloroso e di stare con voi in un momento privato in momenti privati anche di difficoltà e quindi insomma non capita spesso di riuscire a vedere un film che non fa in cui qualcuno che è anche dietro la macchina presa si pone per una maniera costruita e io questo stando a dire la macchina presa ve lo posso assicurare grazie direi di far scrivere su killiam una bella recensione a valerio se siamo da alcuna va benissimo va benissimo prego francesco carlo agenzianza allora intanto complimenti per il film poi avevo una curiosità siccome è un film basato sul senso di colpa no c'è un senso di colpa poi a volte neanche molto chiaro perché poi c'è anche la rivendicazione però la nostra generazione ha fatto cose no la musica c'è la rivoluzione c'è una certa rivoluzione ci fu c'è stata volevo sentire dalle figlie che mi sembrano quelle più assoluto degli elementi chiavi se loro quanto hanno partecipato dei dubbi dei dei padri del senso di colpa del padre che inizia costanza odele no no è il rosso ecco perfetto parlare la figlia in che senso i sensi di colpa dei nostri in che senso partecipato un confronto un mea colpa allora allora per quanto mi riguarda poi non so quale sarà la sua opinione a riguardo secondo me è importante per la generazione prima della nostra comunque quella dei nostri papà avere quantomeno consapevolezza del mondo in cui sono cresciuti del della realtà qui sono stati abituati e delle opportunità che loro hanno avuto e in cui magari noi facciamo un po più fatica per certe cose per certi versi il nostro mondo forse la nostra generazione per tanti aspetti è più semplice più più quotidiana più vivibile però per tanti altri nel nel futuro che ci aspetta che sia lavorativo che sia il futuro di possibili ed eventuali figli è un po più grigio meno meno è un po più disincantato ecco quindi secondo me è importante che loro abbiano preso coscienza di di questa cosa però già facendo questo film loro hanno fatto una cosa grande secondo me stanno portando a un pubblico le loro opinioni i loro pensieri non non è solamente a appunto come valerio non è faccia mia colpa e poi basta adesso sono a posto con la coscienza no si sono messi in gioco in campo e hanno portato il loro vivere anche un po il nostro e le nostre voci ma non solo anche quella di extinction rebellion e di di altri giovani ragazzi come i ragazzi della manifestazione e hanno portato così alla luce tante realtà e secondo me questa è una cosa molto bella e molto molto importante costanza vuoi aggiungere qualcosa forse che appunto c'è nel senso alla fine il confronto è la cosa fondamentale la cosa importante e quindi comunque anche se poi le opinioni alla fine di un confronto rimangono più o meno le stesse almeno la consapevolezza che l'altra persona la pensa in un altro modo è utile porta delle riflessioni interessanti altre domande allora io vado direttamente dal produttore che è arrivato leggermente in ritardo così almeno lo recuperiamo perché mi fa piacere io vorrei sapere domanda del secolo chiaramente come hai incontrato questo progetto e come ti ci sei calato perché è una cosa di anomalo ma insomma interessante e secondo me necessaria anche nel momento che abbiamo vissuto intanto buongiorno a tutti scusate per il ritardo ma arrivavo da Bologna e ho conosciuto il progetto perché con Andrea siamo dei cari amici e quindi avevamo già fatto due tre esperienze di cui una con cine città e poi abbiamo sviluppato anche altri progetti e quindi insomma mi piace il modo di pensare di Andrea perché perché va oltre e quindi quando ho visto questo progetto che sicuramente è un progetto che economicamente non non porta da nessuna parte immagino invece poi forse avremo delle risposte diverse però ho pensato che intanto potevo farlo in quel momento e quindi poi quando fai una cosa la fai e crea delle energie comunque sia c'è avuto il tempo ho la voglia ho conosciuto Gianfranco il film all'inizio non mi piaceva poi a un certo punto mi è piaciuto anche su alcune cose non le condivido però sicuramente aggiunge 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 e poi io sono un po più giovane di loro e non anche se sono un boomer mi sento meno boomer però non c'ho questo questo problema qua però però sono molto contento di aver partecipato a questo film e comunque sia anche cine città ha avuto un ruolo fondamentale perché anche loro hanno messo l'archivio ci hanno lavorato e poi ci hanno creduto in modo particolare Enrico e Andrea Di Console e credo che chi lo vedrà chi lo vede questo film gli lascia gli lascia qualcosa a alcuni amici a me non è piaciuto perché ci sono alcuni che poi mi mandano messaggi ma qua invece ad altri è piaciuto molto e comunque io l'ho visto almeno tre volte e sono contento di averlo fatto insomma per aver partecipato Luigi Toltando un'ultima scusami no ti ho interrotto prima di Andrea Di Gianfranco insomma il film è loro volevo sapere se avete già un futuro di uscita di visione da qualche parte sì cine città lo distribuirà e quindi insomma il prossimo anno ma no sicuramente comunque faremo qualche anteprima adesso immagino subito a Bologna sicuramente perché comunque è terra nostra e lì giochiamo in casa e anche a Roma e poi e poi vogliamo capire come il pubblico risponde in modo particolare oggi pomeriggio insomma se qualcuno vuole fare domande noi siamo qui a disposizione e se no assumiamo la la dinamica Hollywood Party Gianfranco e le faccio io facciamo la dinamica radiofonica faccio io le domande appunto siamo abituati sì appunto ormai ci conosciamo da tempo volevo dire che più che il senso di cioè il senso di colpa ci sta ma non è solo un senso di colpa e io credo cioè io e Andrea che abbiamo fatto il centro sperimentale insieme perché poi questo video otto lo giramo dall'allievi del centro sperimentale ed è un'esperienza che ricordiamo entrambi quella settimana come una settimana bella felice tra l'altro posso aprire una piccola parentesi rispetto al proprio al video della visita a Berlino c'è un audio accettabilissimo che mi ha sorpreso sì devo dire che è superiore l'audio alle immagini girate all'epoca è vero però devo dire che anche io poi ci abbiamo un po' lavorato sopra il mix con Ciamparelli Cinecittà abbiamo messato con un signore del mix insomma mettiamola così quindi ci ha aiutato molto anche questo Marco Furlani ha fatto il montaggio del suono che è un'altra persona insomma che fa bene il suo lavoro perché bisogna lavorare sempre con persone che fanno bene il loro lavoro non lo facciamo solo noi registi il buon lavoro quando ci riusciamo evidentemente c'è altra gente intorno però ecco più che senso di colpa io parlerei proprio di una sorta di assunzione di responsabilità ovviamente ci giochiamo anche un po' sopra io e Andrea però c'è questo aspetto e il background politico di Andrea che ci ha portato a questo nel senso che entrambi siamo stati dei militanti politici ci siamo fatti un pezzetto di 77 tutti e due eravamo proprio pischelli come si dice a Roma 14-15 anni e la vispolitica fa parte di noi la nostra amicizia al centro anche rispetto a televisione è creata su questa anche su questa vispolitica quindi è una questione di assunzione di responsabilità ecco io posso aggiungere una cosa che sono d'accordissimo con quello nonostante le polemiche con Gianfranco sono d'accordissimo con quello che dice il tema vero è che da parte nostra è vero c'è un'assunzione di responsabilità ma in fondo noi come boomer in quanto boomer apparteniamo al pop il tema vero è che noi abbiamo girato questo film a fianco a un muro fatto di cemento grezzo di beton brut che ha dato anche vita a un movimento architettonico che si chiama brutalismo io credo che la responsabilità vera di chi non si è assunto le proprie responsabilità sia proprio di chi il muro l'ha costruito cioè dei brutalisti cioè di quelli che avevano quell'idea di un mondo cementificato di un mondo diviso da muri e confini quando abbiamo visto cadere quel muro in quei giorni magnifici a Berlino abbiamo pensato che si aprisse una nuova stagione quando in verità delle barriere molto più alte di quel muro venivano erette per tutti e le differenze sociali, politiche, economiche aumentavano spaventosamente in tutto il mondo il brutalismo è anche a Ischia non è solo a Torrella Monaca ricordiamolo bene il brutalismo è anche a Ischia quello che si è permesso di fare per tanti anni ora uno si sente responsabile di questo non in quanto partecipante al brutalismo ma perché c'è stato un momento in cui il nostro forse ottimismo anche quegli anni 90 che sono stati un decennio dove si pensava alla globalizzazione ma anche al Glocal c'erano delle strade qualcuno forse di noi ha confuso il mondo intero con la globalizzazione c'è stato anche questo equivoco a sinistra e tutto questo però voglio dire in qualche modo la responsabilità è indiretta e indiretta in quanto si poteva fare di più dovevamo incazzarci di più e allora ascoltare i ragazzi di Extension Rebellion per esempio è bello perché la loro ribellione è un ribellione intelligente non è spacchiamo tutto ma non ne dicono spoiler come si dice insomma le parole che rivolgono ad Andrea sono molto belle non è una questione di responsabilità e di fustigarsi è mettersi insieme per cercare ancora di cambiare il mondo posso dire una cosa controcorrente a parte che secondo me a Ischia è brutalità non è brutalismo è anche brutalismo perché il brutalismo c'è un pensiero dietro lì è proprio un'altra roba sì c'è un pensiero è che il brutalismo è un po' però è anche quello insomma dissento penso che se fossimo state loro due e me la nostra generazione a essere cresciuti negli anni 80 anni 90 usciti dalla guerra fredda non ci saremmo incazzati ma avremmo fatto lo stesso è una provocazione questa io penso questo che come dico anche ragazzi existential rebellion piuttosto che continuare a tornare a quello che non avete fatto pensiamo a quello che possiamo fare adesso tutti insieme è quello che dicono quegli ragazzi di existential rebellion hanno ragione continuare a dire potremmo fare è andata così noi forse noi avremmo fatto peggio adesso noi ci stiamo distraendo perché è troppo grande il mostro da affrontare quindi ci serve l'aiuto di tutti mi sembra un'ottima chiusura io ringrazio tutti i presenti ok boomer quindi lo vedremo presumiamo intorno al 2023 ma forse anche prima in qualche proiezione nelle città grazie a tutti i presenti grazie a voi